La regione fa figli e figliastri. Ha lanciato un grido d'allarme la capogruppo dei 5 Stelle Marta Ruggeri che durante la seduta odierna dell'Assemblea Legislativa delle Marche ha messo in luce la situazione critica nella provincia di Pesero Urbino dove gli ospedali di Marche Nord e le strutture territoriali assistono gran parte dei pazienti marchigiani affetti da Covid. Questa stessa pressione ha detto Ruggeri che sul tema ha presentato un'interrogazione rallenta visite mediche, diagnosi, terapie tempestive e interventi chirurgici riguardanti le altre patologie esigo coerenza detto nelle scelte della giunta regionale. Insieme alla collega Lupini che cosa ha chiesto all'assessore Salta Martini e qual è stata la sua risposta? All'assessore Salta Martini questa mattina abbiamo chiesto che si faccia carico alla regione di una redistribuzione dei malati Covid che gravano enormemente sulla nostra provincia. I dati ultimi, più recenti, indicano che a fronte di un 8% di contagi abbiamo un'occupazione dei posti letto del 43% e quindi questa pressione sui nostri ospedali a nostro avviso non è più sostenibile e non è neanche una questione equilibrata all'interno della regione. Quindi abbiamo chiesto che venga ridistribuito il carico, si faccia quello che l'assessore e i tecnici ritengono più opportuno, per noi potrebbe essere l'apertura dei Covid Center di Civitanova ma anche altre scelte. L'importante è però che i cittadini della nostra provincia del Pesarese abbiano una risposta alle esigenze di salute che ad oggi non hanno purtroppo perché come sapete il personale non è stato aumentato, sono stati aumentati semplicemente i posti letto che poi vanno gestiti, quindi per far fronte alle esigenze che abbiamo sono stati contratti altri servizi. Pensiamo semplicemente per esempio alla chiusura del reparto di psichiatria di Pesaro, quindi gli operatori sanitari sono stati trasferiti a Galantara dove sono stati aperti 70 posti letto, come sapete. Ecco, Saltamartini prenderà provvedimenti? Saltamartini ha detto che per ora non lo farà e lo farà eventualmente quando i casi saranno maggiori, ma l'assessore parla sempre e solo delle terapie intensive e si scorta di citare anche quelle semi intensive, appunto come dicevo prima, la sanità territoriale, perché i numeri che dobbiamo analizzare sono quelli complessivi, non solo quelli delle terapie intensive. Tutto questo peso grava per quasi la metà della gestione della malattia Covid sulla nostra provincia, non è più tollerabile.